Scusate, scusate ma già sto lavorando per la seconda serie di Traffic. Comunque, durante la Notte Rosa abbiamo fatto una scoperta spettacolare, un nuovo gruppo emergente, la Framestop Blues Band, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Regia, c'è questo collegamento? Sì! Sì, con chi ha l'onore di parlare? Con Mauro, il chitarrista del gruppo. Buonasera a tutti. Quando è nata la Framestop Blues Band e come mai questo nome così particolare che ricorda il cinema? Il gruppo è formato da sette elementi e ci siamo incontrati più o meno l'anno scorso e abbiamo deciso di formare questa band in quanto, diciamo, ci accomunava la passione per il blues e la musica in generale. Il nome è stato scelto in onore del grande regista Kubrick, che utilizzava nei suoi film dei fermi immagini, appunto Framestop. Che genere fate? Ma tutto quello che finisce con blues, rock blues, soul blues, jazz blues. Infatti noi facciamo cover anche di Etta James, Eric Clapton, The Blues Brothers e non solo. E dove vi possiamo trovare? Sì, ci potete trovare nel nostro profilo Facebook Framestop e nel nostro email framestop.chiocciolalibero.it Un grandissimo saluto a nome di tutti i componenti della Framestop Blues Band. Ciao a tutti! Grazie da Traffic!